Ho scelto Milano perché Milano mi ha scelto. Io Milano alla faccia di una ragazzina che era sotto Radio DJ un giorno quando sono andato a fare il provino. Ferrosa come i binari del tram. Mi chiede che cosa stavo facendo perché ero lì e io facendo anche un po' i ganassa come si dice a Milano racconto che sono lì per fare un provino. Ciotolosa. In realtà il provino non andò benissimo però quella ragazza si vede che rimase colpita e quando Albertino un giorno, qualche settimana dopo, passando con la macchina si tornò a parlare con queste che erano appunto le fan di Radio DJ sempre presenti sotto la radio e quando si fermò la ragazza chiese di me. Ma soprattutto Milano è italiana e Albertino qualche anno dopo mi raccontò a Riccione che il motivo per cui io venne preso a Radio DJ era proprio per quella domanda di quella ragazza che gli fece capire che da qualche parte forse poteva avere una possibilità. Quindi Milano è quella ragazza lì per me. Io ho scelto Milano. Grazie a tutti.